buongiorno da WTV news oggi 10 gennaio sant'aldo e remita oggi si celebra la giornata mondiale di riduzione dei costi energetici che si pone come obiettivo la sensibilizzazione sulla necessità di ridurre i costi dell'energia oggi è anche la giornata nazionale dell'arance nella giornata mondiale del cioccolato fondente tra i nati il 10 gennaio ricordiamo world steward 1645 entrato nel guinness dei primati come l'artista con maggiore pubblico a un proprio concerto dell'intera storia del rock e francesco panetta 1960 ex atleta che negli anni 80 e 90 ha primeggiato a livello mondiale ed europeo nei 10.000 metri e nei 3.000 metri siepi tra i scomparsi annoveriamo l'inneo 1778 medico botanico svedese a lui si devono i criteri della moderna classificazione di animali e piante jeff beck 2023 mago della chitarra con cui ha fatto la storia del rock e del heavy metal negli anni 60 e 70 e ancora coco chanel 1971